Musica Vi faccio notare che questa è una chiesa dove c'è una grande devozione agli angeli e agli arcangeli. Quindi innanzitutto c'è l'immagine di San Michele Arcangeli, poi c'è l'immagine di San Raffaele e di San Gabriele. Domani all'Omeria della Messa delle 11.15 io parlerò brevissimamente dei tre arcangeli. Se volete approfondire c'è del materiale qui su Michele, Gabriele e Raffaele. Il nostro protettore è Sant'Antonino che è un esorcista. Ecco, Sant'Antonino Liberatore degli Ossessi. Abbiamo la ceramica lì di Sant'Antonino e abbiamo qui la statua sempre di Sant'Antonino. Qui è vissuto qui, è padrono di Campania e anche di Sorrento. L'altra volta Pino ha fatto tante preghiere di guarigione e liberazione e tutti mi hanno detto che hanno avuto dei grandi benefici. Alcune donne mi hanno detto che avevano il tumore al seno che stavano curando. Dopo che Pino ha fatto la preghiera sono andate a farsi la radiografia e il tumore al seno scompasso. Allora io ho chiesto all'Alessandra, che è qui, la ringrazio perché poi ci vuole anche il coraggio, di portare questa testimonianza. Lei è venuta perché mi ha detto che grazie al Signore e alle preghieri di Pino, perché il Signore è la donna che opera, no? Ecco, questo tumore al seno non c'è più. Ho detto che porta anche le radiografie, di prima e di dopo, perché qua non pigliamo in giro nessuno, va bene? Quindi Alessandra, la piccola testimonianza, vengo io in giro. Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie di essere tutti qui. Sì, io avevo un nodulo al seno, sempre tanti, tanti noduli, ecografia dopo ecografia, anno dopo anno, sempre questi noduli. Dopo la benedizione, ecco qua, un'ecografia con zero noduli al seno ed è tutto scomparso. Grazie. Allora, però c'è stato un altro prodigio che si era fatto tramite il Dino. Quando il Dino viene l'altra volta, io non lo portai giù nell'oasi perché avevo vergogna. L'oasi è stata costruita in vent'anni. Per vent'anni io non ho preso i miei stipendi di base, poi li ho messi nell'oasi. Poi dopo c'è stato il Covid, 3-4 anni. Poi la malattia di mia mamma. Poi io che spesso vado in giro a fare conferenze, comincio ad avere 60 anni anch'io. C'è stato un po' il crollo della fede dopo il Covid. Poche persone venivano a messa e quindi anche poche entrate economiche. Perché poi vedrete, per mantenere questa struttura ci vogliono tanti soldi. Già pagare le bollette di una piccola parrocchia, di una grande impresa, no? Tom Cruise direbbe emissioni impossibili. Allora, non portai giù Pino perché mi vergognavo. Perché non era più un'oasi ma era una giundola. Però Pino, lo stesso Giobbide, e disse è bello qua però bisogna aiutare Don Marcello. Infatti mandò qui una delle sue volontarie che è venuta a Pompeia che ancora la ricordiamo con affetto. Ecco, salutiamo anche Pompeia quando si vedrà questo video. Allora, Pino ha fatto questo miracolo. Dopo che lui è venuto si è creato questa situazione di entusiasmo e ci sono 20-25 volontari che hanno detto ma perché dobbiamo lasciar venire questa struttura che Don Marcello ci ha messo 20 anni della sua gioventù, i migliori anni, no? E dai 35 anni ai 50-55 anni. Allora, voglio ringraziare anche l'imprenditore Beppe Romano che per molti mesi, ogni giorno gratis, ha mandato i suoi operai a tagliare. Ma i volontari in questi due mesi, dopo che Pino è venuto, hanno fatto dei grandi lavori, li ringrazio. Quindi adesso andiamo giù, così facciamo anche una preghiera giù. Quindi, venite a preghiera giù. Grazie. 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 Grazie.